Il mondo non ci vuole più. Noi distruggiamo, inquiniamo, bruciamo questo mondo. E lui non ci vuole più. Noi piccoli esseri umani. Così ha mandato il suo più piccolo dei soldati con un unico scopo. Scritto direttamente nel suo semplice ed essenziale codice genetico. Uccidere l'umanità. Covid-19. Un armageddon senza nemmeno un vero nome. Covid-19 sta svolgendo il suo dovere. E noi dobbiamo combattere questo invisibile nemico con l'unica arma che ci rimane in mano. Che stare a casa e cercare di limitare i danni. Ci hai tolto la nostra libertà. Guardo fuori e vedo il niente. E penso a quando giravo con la mia moto 200 cavalli con la quale potevo scappare da ogni angolo dei miei pensieri. Aspetta ma io una moto non l'ho mai avuta. In realtà potrei uscire e portare fuori il mio Rottweiler. Tu cosa ne dici Rott? Nemmeno lui vuole uscire. Beh poco importa. Se non fosse per il Covid-19 ora sarei con la mia ragazza a farci l'amore. Accarezzandolo su tutto il suo sensuale corpo. Aspetta ma? Ma io? Io non ho una ragazza. Beh poco importa. Covid-19. Se non fosse per te ora sarei con i miei amici a obbricarmi con litri e litri di birra fino a stare male. Ma? Ehi ma? Ma io sono Stemio. So io come sconfiggerti. Io sto in casa. Io sto in casa. E va bene così.